Pasquale Nocerino, al violino Non c'è sempre io mai di dire che la quarantena è un erano zoologratico Non è un balletto tipico Non è una tazza generica, riuscita, riettimento, il filo e l'onore La quarantena è tutta una cosa Ma voi lo sapete meglio di me Non ci stai più o santo? E la quarantena è Ma ci stai più o santo? 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 Stai più o santo? Ma ci stai più o santo? Ma ci stai più o santo? Ma ci stai più o santo? No, ma ci stai più o santo? e a buca Mercurio del Samborello Grazie a tutti 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 Grazie a tutti